La città di Pordenone, nel giorno dell'unità nazionale e nella giornata delle forze armate, commemora i caduti di tutte le guerre e rivolge un riconoscente pensiero a tutti coloro che hanno concorso a dare al popolo italiano un unico Stato. In piazzale Ellero dei Mille erano presenti autorità civili e militari, le associazioni combattentistiche ed arma ed alcune scolaresche. Dopo lo schieramento del picchetto Interforze e l'alzabandiera con inno nazionale, è stato reso onore ai caduti con la deposizione della corona dall'oro. Presente anche il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. È sempre un esercizio della memoria. Queste giornate, questi momenti, il 4 novembre, il 25 aprile, sono quelle date che ci costringono a confrontarci sull'attualità di momenti molto precisi della storia del nostro paese e a capirne ancora l'attualità. Io mi auguro che anche oggi la presenza delle scuole sia, come gli anni scorsi, sia una prova che questa memoria nel tempo regge, perché è importante capirci e capire come il nostro paese sta evolvendo, sta cambiando in questo senso. In più, la vicinanza alle Forze Armate e la loro missione così delicata, proprio in questo momento storico mondiale, credo che sia un obbligo dal punto di vista istituzionale. Quindi noi, come Comune e come Provincia, desideriamo esserci ancora una volta proprio per dare ai nostri soldati e a coloro che operano in paesi lontani e in teatri così difficili, la loro famiglia, la nostra solidarietà. Grazie a tutti.